Buongiorno, per essere coerente con quanto ho promesso di fare un ciclo di lezioni alla ricerca dell'uomo, che è il succo della risposta di Diogene, provocatore che andava in giro con una lanterna in pieno giorno e che chiedeva ma che fai con quella lanterna? Lui rispondeva cerco l'uomo. Nel video dell'altro ieri ho detto che questo è ancora molto socratico, questo modo di fare di Diogene, di questo che ora non mi ricordo il nome, di Diogene, chiamato il cinico perché gli Atenessi, non riteneva che vivesse come un cane e per cui lo chiamarono cinico, non perché era cinico come lo riteniamo ora, ma perché viveva come un cane. Beh, abbiamo anche detto nel video precedente per quale motivo, Diogene viveva così, era allievo di Antistene, Antistene un allievo molto aderente al pensiero di Socrate, l'unica cosa che non riusciva a capire bene è come si potesse passare da quello che diceva Socrate di come funziona quest'organo all'azione. Beh questa cosa la riscontro io stesso perché in fondo io non faccio altro con la mia psicoterapia di spiegare, di rendere, trasformare in una credenza il funzionamento di quest'organo in modo che una volta che a livello di funzione umana, il funzionamento di quest'organo diventa una credenza certa noi agiremo automaticamente ed è questo il pensiero di Socrate, so di non sapere che non vuol dire che io sono umile, non sono erudito, no, è una verità, la verità è che io, noi uomini sappiamo di non sapere, cioè tradotto vuol dire noi uomini a differenza degli animali che non sanno assolutamente dove vanno a sbattere e a differenza degli dei, ponendo che ci siano, noi stiamo a metà, noi uomini sappiamo di non sapere quello che ci accadrà ma possiamo fare ipotesi che riguardano il futuro. Beh, ed ora cominciamo a fare questi nostri racconti dove io ho scelto la strada di raccontare l'uomo, di dirlo com'è, abbandonando parzialmente il sistema socratico che era un sistema addomante e a stimolo in modo che la mente umana dell'altro, è grandiosa questa cosa, potesse capire da solo come funzionasse quest'organo. Ma la mia esperienza di 40 anni dice che a fare come Socrate si rischia o di dover bere la cicuta oppure di doversi fare ammazzare come Gesù. Perché è molto difficile usare il metodo maieutico facendo domande che pongono in evidenza l'incongruenza di certi discorsi in funzo, il metodo maieutico, il dialogo socratico e porre domande in modo che l'altro da solo colga che sta dicendo delle gastronate. Ma noi difendiamo talmente la nostra identità stupida o non stupida che sia e tendiamo soprattutto a proteggere soprattutto noi stessi. La tentazione più grande che abbiamo è quella che ha saputo sintetizzare Gesù, che è la nostra forte tendenza a proteggerci e non siamo nescenti. Allora oggi vi ho svelato due cose dell'uomo, che abbiamo una forte tendenza a proteggere, che questo è un organo quindi ha una finalità a proteggere e nello stesso tempo non possiamo proteggerci. Perché questo organo, se era nascente, poteva fare una strategia preventiva, curata e si proteggeva. Ma non essendo nascente, può solo sperare, può solo dire, spero che le cose vadano come dico io, se vanno bene e ne festeggeremo, se no aggiusteremo. Nel tentativo, nei vari tentativi che ho fatto di tentare anche tramite i miti, il racconto dei miti, con questa chiave, che è la chiave di come funziona quest'organo per spiegare i miti, beh i miti sono dei racconti straordinari per comunicare, quello che vogliamo comunicare, i concetti che vogliamo comunicare, raccontare storie significa essere efficaci nella comunicazione, ma molti miti non raccontano di come è fatto il mondo, raccontano di come è fatto quest'organo, ed è allora che si vede la differenza tra quelli che hanno questa chiave e quelli che questa chiave non hanno. Prendiamo rapidamente in considerazione il mito di Pandora, soprattutto nell'ultima parte. Giove, tralasciamo quello che fa Giove per questa cosa, alla fine tutti gli dèi, le dèi gli danno un dono, Giove gli dà un vaso e gli dice ti mando in mezzo agli uomini in modo che gli uomini possano vedere in te un bene quando può essere anche un male. E già questo, solo in chiave di come funziona quest'organo riusciamo a dargli senso. Ma tu non aprire questo vaso, se no creerai affanni, malattie e morte agli uomini che erano immortali in quel momento. Beh, Pandora va, Pandora incontra Epimeteo, Epimeteo se la porta a casa, Epimeteo un giorno va a trovare gli uomini e comincia a vedere che gli uomini avevano affanni, che cominciavano a domalarsi, morivano, corre a casa, capisce che Pandora aveva aperto questo benedetto vaso e trova Pandora che frigna. attenzione, qui una cosa particolare, ve la voglio mettere a fuoco perché mi sono trovato di fronte a una interpretazione assurda fuori della lettera del mito, dove dice molto questo interpretare non tenendo conto della lettera del mito. Beh, cosa c'è che trova Pandora fa frignare, urlano fra di loro, dopo un po' si quietano e in questo piccolo silenzio si sente bussare dentro il vaso, toc toc, si spaventano, poi a un certo punto prendono coraggio e chiedono chi sei? E una vocina dentro dice, sono speranza, mi ci ha messo Giove, che ci fai lì? Mi ci ha messo Giove, in modo che al fine di tutti i mali, alla fine di tutti i mali, l'uomo non smetta mai di sperare. Ecco, questa è la frase alla lettera del mito. Ci sono delle interpretazioni veramente assurde, che tendono sempre raccontando un mito, sfruttando un mito, ad acclarare una propria visione del mondo. Quando si legge un mito, ecco il mio pensiero altro, dobbiamo prima, come quando si traduceva dal latino o dal greco, prima tradurre alla lettera e poi a senso. No, perché è un racconto, in effetti, si presta facilmente a mille interpretazioni, soprattutto se io uso quel racconto per raccontare me, in modo acritico, senza... Devo prima tradurre, capire che cosa dice quel mito, poi dopo posso anche usarlo a mio piacere, ma prima tradurre alla lettera, tentare di capire che cosa voleva dire colui che ha fatto il mito e poi posso spaziare. Beh, sulla mia pagina vi ho fatto vedere una versione moderna, scherzosa, sempre del mito di Pandora, e se lo vedete c'è uno sketch molto sintetico, dove non lo dice le stesse cose del mito, non aprirlo, e al solito la donna curiosa apre, in questo caso è bellissimo però questa versione nuova del mito, è bellissimo ma è molto significativo anche, vedi, possiamo modificare il mito, sì ma in questo modo, apre cosa, e non c'è nulla ma è vuoto, si sente uno strano odore, che odore è di vasellina, attenta, vi lascio qui, questo mito modificato è molto molto significativo, molto importante, come significato è uguale a quello originale, che dice, mi ci ha messo una speranza, mi ci ha messo Giove, in modo che al fondo di tutti i mali, l'uomo non smetta mai di sperare, se mettiamo vasellina, mi lascio qui, buongiorno.